Piazza Beccaria a Firenze rinnova il suo look grazie al lavoro di 20 ragazzi detenuti nel carcere minorile, ragazzi che hanno ormai compiuto 18 anni, arrestati anni fa chi per spaccio, chi per furto e che ora hanno voluto restituire qualcosa alla città, sporcandosi le mani e lavorando per settimane al riallestimento delle aiuole della piazza dove hanno piantato salvi all'oro e piante ornamentali. Un lavoro regolarmente retribuito per un progetto realizzato dal Centro di Giustizia Minorile della Toscana in collaborazione con l'Istituto Formativo APAB. E che ha come presupposto la possibilità di far arrivare questi ragazzi, specialmente quelli che seguono tutto il percorso per intero, ad un patentino che gli consenta effettivamente poi di assumere questo come proprio mestiere, come professione. Siccome la giustizia minorile ha come obiettivo principale quello del recupero sociale dei ragazzi, oltre che dell'accertamento della responsabilità, attraverso vari istituti, tra cui per esempio la sospensione del processo permessa alla prova, alcuni di loro rientrano nell'ambito di questi progetti. Così come altre decine di minori toscani che si sono macchiati di reati penali e che grazie a progetti come questo riescono a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro acquisendo in alcuni casi anche capacità tecniche specifiche.